Ciao e benvenuto all'interno di questo nuovo video, io sono Alberto Ranzato, il tuo vocal communication coach. All'interno di questo video che cosa vedremo? Vedremo alcune tecniche di public speaking, cioè ti darò alcuni consigli o esercizi o suggerimenti da applicare per comunicare in maniera più efficace in pubblico. Eventualmente alcuni di questi consigli si applicheranno anche per la comunicazione in video. Non so se ti è mai capitato di parlare in pubblico e magari bloccarti dalla paura, del resto sappiamo il public speaking, il parlare in pubblico o meglio la paura di parlare in pubblico è molte volte la paura più grande in assoluto per tante persone, anche più grande della paura della morte. Ho già fatto dei video in merito a questo e quindi di conseguenza magari anche tu ti sei messo in questa situazione di parlare in pubblico con un discorso preparato o non preparato e hai sperimentato cosa vuol dire parlare davanti ad altre persone oppure non l'hai ancora fatto perché ti blocca la paura di farlo. Ecco con questi suggerimenti che vedremo all'interno di questo video cercherò di darti appunto quelle risorse, quegli strumenti per poterti far superare la paura e quindi di conseguenza buttarti con maggiore sicurezza in questa pratica per parlare agli altri e mostrare al mondo chi sei. Dall'altra parte se invece l'hai già fatto e dovrai continuare a farlo e farlo meglio, allora già questi suggerimenti ti potranno dare una mano per migliorare le tue performance. Dopodiché ci sono ancora tante cose che potremmo fare ma le vedremo. A questo punto quindi cominciamo con il primo consiglio, il primo step se non altro, quello di cominciare a capire come preparare un discorso, un discorso coinvolgente. Bisogna imparare a strutturare un discorso e organizzarne i contenuti, quello che Cicerone chiamava la fase di invenzio, disposizio ed elocuzio. Cioè dobbiamo inventarci il nostro discorso con lo scopo, con l'obiettivo, stabilendo l'argomento e i sotto argomenti e dopodiché disporli in maniera precisa secondo una sequenza, una sequenza possibilmente logica. Diciamo che un discorso, andando in breve e riassumendo, dovrebbe sempre avere un inizio, uno svolgimento e una fine. Quindi possiamo avere una fase di introduzione, una fase di costruzione del rapporto dove magari presentiamo la situazione passata attuale, evidenziando il problema e evidenziando anche dove potremmo andare. Dopodiché c'è una fase di argomentazione, una fase dove possiamo sviluppare tutti i punti del nostro discorso, possiamo presentare i dati, possiamo presentare dei casi studio, per poi arrivare a una fase normalmente che può essere o di riassunto e o anche di conclusione, di chiamata all'azione. Quando abbiamo una struttura del discorso sappiamo l'obiettivo e abbiamo fatto un piccolo brainstorming su carta o nella nostra testa di tutte le cose che potremmo dire e abbiamo avuto la capacità di disporle in una sequenza logica che va dal generale al particolare, allora avremo avuto la capacità di costruire un discorso efficace. Se riusciamo a legare a questo anche le sequenze emozionali corrette, unendo la voce, il corpo e le parole nel modo giusto, allora potremo veramente dire di aver fatto una comunicazione davvero efficace. Quello che devi arrivare a fare è fare esattamente tutto questo, mettere insieme tutto, la costruzione del discorso ma anche il modo di esporlo. Ma lo vediamo anche in altre slide. Passiamo quindi al secondo consiglio, il contatto visivo con la platea. Ricordati quando parli in pubblico, chiaramente nell'ambito video, questo avviene un pochettino di meno perché c'è solamente la telecamera da guardare, ma quando vai in pubblico e ci sono più persone, ricordati di non guardare solamente una persona, magari quella che conosci, ma cerca di portare l'attenzione e lo sguardo su tutti i partecipanti. Soffermati un po' su uno, un po' sull'altro, poi dai uno sguardo generale. Questo contatto visivo permette di coinvolgere l'altra persona o le altre persone e tutta la varia platea. Questo consiglio si lega anche a un altro consiglio che vediamo tra poco, ovvero questo, quello di coinvolgere effettivamente il pubblico. Quindi oltre allo sguardo, oltre a guardare queste persone, interagisci anche ogni tanto con loro. Quindi chiedi magari, fai una domanda, chiedi una loro risposta, chiedi se hanno delle domande, oppure se hanno capito, oppure se è tutto chiaro, oppure farli interagire con qualche esercizio. Ecco, ci possono essere veramente tantissime modalità, ma più interagisci con l'aula, più rendi questa esperienza di parlare in pubblico un qualcosa di piacevole, di dinamico, di coinvolgente, meglio è. Perché, insomma, le persone avranno molta più attenzione e si ricorderanno di te. Poi, altra parte, l'arte di raccontare le storie. Lo storytelling è un elemento veramente importante nel public speaking. Magari non sempre si utilizza, non per tutte le presentazioni, ma molto spesso la capacità di raccontare una storia è veramente molto importante perché le storie permettono alle persone di essere maggiormente coinvolte, di medesimarsi nel personaggio, di vivere quell'esperienza. A tutti piace ascoltare le storie, sin da quando siamo bambini. Ed ecco che allora, quando raccontiamo una storia, vediamo che l'altra persona ci presta attenzione, ci guarda col sorriso e potrebbe apprendere magari quel messaggio nascosto in quella storia. Per esempio, potresti raccontare la tua storia personale, come per esempio nel mio caso poteva essere la mia storia che ho raccontato tante volte, di quando ho scoperto proprio che, dato che non riuscivo a raggiungere i miei obiettivi, ho scoperto che avevo delle difficoltà nella comunicazione, la mia voce non mi piaceva, non mi soddisfava, fino a quando ho iniziato a studiare con Ciro, ho imparato quelle tecniche e quel metodo dei quattro colori della voce, che poi è evoluto in comunicazione carismatica, che mi ha davvero cambiato la vita. Da lì, da quel punto, ho iniziato ad ottenere tantissimi risultati in più, nell'ambito delle relazioni personali, nell'ambito del coinvolgere altre persone per collaborare, riuscire a vendere di più e tanto altro ancora. Insomma, la mia vita è davvero cambiata. Ecco, questa è stata la mia storia, ma è la storia anche di molti miei clienti. Queste stesse cose, quando impari la costruzione delle storie, specialmente seguendo il viaggio dell'eroe, potresti diventare veramente un campione nel raccontare le storie e quindi nel coinvolgere il pubblico. E queste storie le puoi utilizzare sia per raccontare la tua storia, ma anche la storia dei casi studio, oppure dei tuoi clienti. Quindi i fallimenti che ci possono essere stati, quello che è stato scoperto e quella che è stata la trasformazione nella nuova realtà. Ecco, questa costruzione delle storie è veramente affascinante e ti consente proprio di utilizzarle come strumento potente per far penetrare la tua idea nella mente dell'altro, farti comprendere di più, coinvolgere e anche trasferire proprio il messaggio, l'idea, lo scopo del tuo discorso nella mente dell'altro. Le storie sono uno strumento davvero potente, quindi impara a crearle, impara a raccontarle. Poi, mentre parli, ricordati di tenere il ritmo. Quindi il ritmo ovviamente vuol dire tenerlo variato. Quindi c'è anche una canzone di tenere, tieni il ritmo, ma in questo caso quando parli dovresti avere un ritmo che non è sempre uguale, altrimenti diventi monotono o monotono. Ma quello che devi fare è variare tutti gli elementi espressivi e quindi in alcune fasi accelerare, in alcune fasi rallentare. Però sempre ci deve essere la capacità di coinvolgere il pubblico. Ogni tanto, durante il tuo discorso, respira, calmati, respira, non andare in affanno. Il coinvolgimento e il ritmo è dato anche dai momenti dove la tensione si allenta. In alcuni momenti puoi caricare di tensione, di entusiasmo, di carica, di azione, eccetera, eccetera. Ogni tanto però arriva il piacere dato da la sospensione, dalla calma, da quel momento di relax, quella quiete prima della tempesta, quella primavera prima dell'inverno o dell'estate, del troppo caldo o del troppo freddo. Abbiamo sempre quella mezza stagione che ci fa star bene. Hai capito? È la stessa identica cosa. Le emozioni della voce, le emozioni della tua comunicazione, che risplettono un po' i colori della voce, no? Di giallo, il verde, il blu e il rosso. Poi focalizzati sul tuo obiettivo comunicativo, sull'obiettivo del tuo discorso. Quindi devi avere uno scopo chiaro nel tuo discorso, devi averlo sempre ben in testa e devi comunicare per raggiungere quell'obiettivo. Ma nel mentre che fai questa strada, che quindi percorri questa tua presentazione, devi divertirti. La vendita, la comunicazione, il public speaking sono efficaci quando alla base c'è il coinvolgimento, c'è il divertimento, c'è il piacere. Prima di tutto c'è la comunicazione piacevole. La comunicazione piacevole diventa comunicazione efficace. La comunicazione piacevole è data dal fatto che tu ti diverti, che stai bene, che provi belle emozioni, che sei all'interno di uno stato di flusso. Quindi, tieni il ritmo, calmati, respira, focalizzati sul tuo obiettivo e divertiti. Molto bene! Tutto quello che abbiamo visto all'interno di questa breve presentazione, questi esercizi, questi suggerimenti che ti ho dato, sono solo alcuni piccoli punti, quelle piccole cose che potresti fare. In realtà ce ne sono molte, molte, molte altre, che potresti imparare, applicare, automatizzare nella tua comunicazione, per trasformarti in un bravo public speaker, comunicatore in pubblico, comunicatore in video, o anche comunicatore one-to-one. Insomma, sono veramente tantissime. Le informazioni, le nozioni, le strategie, ma anche le tattiche, le tecniche comunicative che puoi imparare. E allora che cosa puoi fare se vuoi approfondire, se vuoi fare un percorso di public speaking da base ad avanzato? Beh, quello che ti consiglio, entro il 31 di agosto del 2023, se sei ancora in tempo, è acquistare, cliccando sul link che trovi in descrizione, anche all'interno di questo video, il videocorso di Voce per coinvolgere, che è un corso di public speaking, dove ti guido a creare la tua presentazione, scopriamo il viaggio dell'eroe, e ti guiderò in routine di allenamento per allenare mente, corpo, voce ed emozioni e flusso comunicativo per parlare in maniera completamente efficace ogni volta che parli in pubblico e in video. Ma se non fai in tempo entro il 31 di agosto, perché poi chiudiamo l'iscrizione a tutti i videocorsi, beh, avrai comunque la possibilità di lavorare insieme con me e di fare tutta una serie di formazioni, anche tramite risorse online, anche tramite lo stesso Voce per coinvolgere. Potrebbe essere che io te lo darò anche di accesso nel momento in cui faremo il percorso, e quindi tramite i percorsi di Vocal Communication Coaching io ti guiderò personalmente a risolvere tutte le cose che vanno risolte, nel tuo caso specifico, per farti ottenere il tuo obiettivo comunicativo. A questo punto quello che io ti consiglio è di cliccare sul link e iniziare a migliorare, perché il mio motto è sempre quello, migliora la tua voce, migliora la tua vita. E quindi migliorando il tuo modo di parlare, la tua voce in primis, ma anche tutto quello che la voce si porta appresso, il corpo, le emozioni, il linguaggio, la mente, eccetera, allora riuscirai ad ottenere tutti i risultati che vuoi ogni volta che parli con gli altri, in pubblico o in privato, one to one, e quindi riuscire a realizzare tutti i tuoi sogni e vivere la vita che meriti. Molto bene, a questo punto ti ricordo di mettere mi piace a questo video, iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità. Lasciami anche un commento a questo video, dimmi che cosa ti è piaciuto, quale esercizio ti è piaciuto, oppure potresti scrivere anche qualche altro consiglio che magari vorresti dare a qualche altra persona, oppure se hai delle domande da farmi, scrivimele nei commenti. Io le leggerò e cercherò di risponderti, sia in forma scritta al commento, sia magari lo sfrutterò questa tua domanda per fare qualche altro video in futuro. E quindi così ci aiutiamo a vicenda. Ricordati, lasciami un mi piace, condividi magari anche questo video ad altre persone a cui potrebbe essere utile. Non ti costa nulla, ma ci aiuta molto molto molto. Un caro saluto, un caro abbraccio, un caro bacione. Ci vediamo presto all'interno dei percorsi di Vocal Communication Coaching, dei videocorsi o di altre iniziative. Un caro saluto da Alberto Ranzato, il tuo Vocal Communication Coach preferito.